E allora attenzione perché Loris Conca tra qua e che sta a conquistare il titolo di campione d'Italia, l'applauso per Loris Conca, campione d'Italia 2015! Loris Conca è passato un anno ma la maglia tricolore è di nuovo tua? Sì, ho iniziato la stagione molto male con problemi fisici e man mano ogni gara ho migliorato sempre di più e per preparare questa gara ho messo tutto, ho dato l'anima anche in questa gara. Una gara tutta all'attacco, che percorso è stato? No, è un percorso sicuramente tecnico con molti pezzi in single track, abbiamo guardato io con i miei compagni di squadra se partivi bene, andavi subito il primo giro, lo facevi alto ritmo e ti voltavi, vedevi cosa avevi e questa è la gara. Sono partito, ho dato tutto il primo giro e mi sono ritrovato con un bel distacco. Loris ormai ci sei abituato, raccontaci le emozioni di indossare una maglia tricolore. Ma l'emozione è sempre la stessa, quest'anno ho corso con la maglia della squadra normale non tricolore perché ho cambiato categoria e ci tenevo davvero a riconquistarmela. La volta a conquistare il titolo di campione d'Italia l'applauso per Loris Conca, campione d'Italia 2015! Grazie a tutti!